Ciao, oggi vi parlo di questo mascara della Essence che si chiama Forbidden Volume, dice di essere una scala volumizzante, la confezione è un 12 ml e costa 3,95 euro. Allora vi faccio vedere lo scovolino applicatore che è questo qui e poi vi mostro lo swatch. Grazie a tutti. Come avete visto anche dallo swatch, con questo prodotto è facilissimo macchiarsi. Infatti ogni volta viene fuori tanto tanto prodotto e quindi bisogna pulirlo bene a modo se no ci si macchia, è impossibile da evitare. Detto questo però il colore è davvero nero, un bel nero intenso e la formula un po' abbastanza pastosa, per questo che esce anche tanto prodotto, è effettivamente volumizzante. Quindi il risultato del prima e del dopo si nota notevolmente. Allora, a me non ha fatto impazzire, non è un di quei mascara che ricompro, però fa il suo lavoro. Bisogna stare attenti quando lo si applica, tra una passata e l'altra lasciare asciugare il prodotto, quando lo si preleva pulirlo bene. Però 3,95€ per un mascara che comunque fa un bel effetto, perché si vede la differenza davvero, mi pare un buon prezzo. Durante la giornata non secca le ciglie, non fa grumi e non tende a sgretolare. Dura tutto il giorno tranquillamente, anche se non è waterproof e si rimuove facilmente con uno struccante oleoso o bifasico oppure un'acqua micellare. E quindi sì, promosso, assolutamente. Non è proprio che mi piaccia tantissimo, ma da provare, assolutamente, devo dirvi provatelo, perché ne vale la pena. Allora, come sempre, fatemi sapere se avete provato questo prodotto, come vi siete trovate e come sempre spero anche di essere stata utile. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella, così vi verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video beauty low cost. E alla prossima, ciao!